Esperienza e carisma per aiutare il Frosinone in un torneo difficile e tortuoso come quello di Serie B. Luca Mazzitelli e Mario Sampirisi si sono presentati ufficialmente in Casa Gialla Azzurra. Entrambi stanno recuperando da qualche acciacco fisico. Mazzitelli dalla prossima settimana sarà disponibile con i compagni. Sampirisi si sta già allenando anche se non è al 100%. Entrambi hanno scelto Frosinone perché qui dicono ci sono le basi per un'ottima annata. Mazzitelli confessa che le sue carte in Serie A comunque se le sarebbe volute giocare con il Monza ma ha scelto la ciociaria perché qui ha ribadito si può far bene. Sabato intanto il prossimo avversario sarà il Como. Entrambi i neo-giallazzurri sanno che i lariani hanno alzato l'asticella con il mercato ma quest'anno, osserva ancora Mazzitelli, sono tante le squadre forti. Genoa, Cagliari, Venezia sono le prime tre che gli vengono in mente anche se ci mette pure il Parma. Come detto la squadra giallazzurra intanto continua a preparare la sfida di sabato contro una formazione appunto il Como che ha ottenuto due punti in tre uscite. Gli ospiti arrivano dal K.O. contro il Brescia ma sono un avversario tutt'altro che facile. In chiave formazione qualche novità in più nel Frosinone rispetto a Benevento ci potrebbe essere. Venerdì la rifinitura servirà a sciogliere gli ultimi dubbi per Mr. Grosso in un match in cui i canarini cercano il pronto riscatto dopo il K.O. immeritato e che ha lasciato più di qualche polemica del vigorito.